Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora, allora, accantonata la delusione per il trasferimento di Matthijs, che tra l'altro oggi è volato in Germania, parliamo di Paolo Dybala. Paolo Dybala è un nuovo giocatore della Roma, manca l'ufficialità, ma ragazzi, è cosa fatta? Dopo sette stagioni alla Juventus, il giocatore argentino si accaserà nella capitale. Si parla di un contratto triennale e l'ingaggio dovrebbe arrivare a circa 6 milioni, però bonus inclusi. I bonus sono obiettivi e numero di presenze, quindi poi bisognerà valutare quanto effettivamente raggiungibili questi bonus. Oggi Paolo ha già sostenuto le visite mediche, ha avuto un primo contatto con l'ambiente giallorosso, quindi ormai è già indirizzato, proiettato in questa nuova avventura. Sicuramente vi faccio il mio rimbocca al lupo, però ragazzi, io credo che Dybala debba farsi due domande e anche molti che magari volevano a tutti i costi il rinnovo di Paolo dovrebbero fare una riflessione, cioè un giocatore come Paolo ha trovato squadra il 18 di luglio. Quanti mesi è che si sa che Dybala non rinnova? E anche prima, vedendo che non stava rinnovando con la Juve una società qualsiasi, si sarebbe potuto intromettere e fargli firmare un contratto, convincerlo. Invece non è stato così, l'unica che ci aveva pensato era stata l'Inter, ma ci aveva pensato con Beppe Marotta, perché Marotta ha grande stima di lui, secondo me se no con un altro dirigente l'Inter non avrebbe nemmeno cercato Dybala. Poi l'Inter ha preferito il prestito di Lukaku, anche lì, scelta da valutare. Sono due giocatori sicuramente diversi, però Lukaku intanto lo tieni per un anno, Dybala comunque l'avresti potuto tenere per più anni, perché ragazzi non credo che l'Inter potrà pagare il riscatto di Lukaku, poi magari ci saranno altre condizioni, ma la vedo dura. Però questo deve far riflettere il giocatore. Se tu ti consideri un top player, chiedi cifre sopra i 6 milioni, 6 e mezzo, 7, 7 e mezzo, cioè cifre importanti e poi ti ritrovi a firmare il 18 di luglio, quasi come per non rimanere stessa squadra, a 6 milioni inclusi bonus, forse è il caso che tu due domande Paolo te le faccia. Io avevo già fatto un video in precedenza dove avevo snocciolato dati e numeri, quindi non lo rifarò anche questa volta ragazzi, per non essere ripetitivo, però io penso che la Juventus abbia fatto bene a liberarsi di un ingaggio come quello di Paolo, abbia fatto bene a non rinnovare Quotrata Paolo, e se è vero che la Roma gli ha fatto un contratto triennale, secondo me ha fatto la scelta migliore, quindi bravissima la Roma, ma Marotta gli avrebbe fatto un contratto di 4 anni, loro invece 3. Io l'ho detto, cioè se lui che è un classe 93, quindi quest'anno direi a novembre, compierà 29 anni a tutti questi continui acciacchi fisici, immaginatevi tra un 3-4 anni, come potrebbe essere, cioè il dottor house scansati proprio, quindi secondo me 3 anni del contratto vanno benissimo, poi dopo i 3 anni magari potrà decidere di estendere con la Roma, se la Roma sarà disponibile, o se no potranno valutare di, cioè potrà valutare magari un'esperienza all'estero per chiudere carriera, e questo è l'ultimo secondo me grande contratto di Paolo, quindi ripeto, se un giocatore come lui, comunque della sua classe, della sua tecnica, riesce a casarsi solo il 18 di luglio in una squadra come la Roma, che è una squadra che si va bene ha avuto la Conference, è allenata da Mourinho, che ha avuto un peso rilevante sicuramente in questa decisione di Paolo, e quindi comunque è una squadra che è ambiziosa, cioè vuole migliorare, vuole riuscire a centrare la Champions, qualificarsi per la Champions, e comunque lottare per delle competizioni più importanti, prestigiosi della Conference League, sicuramente Paolo è il giocatore giusto, però ripeto, un giocatore come Paolo se deve fare due domande, se a cercarlo è la squadra che ha vinto la Conference League, e non è riuscito a casarsi da altre squadre. Secondo me è stato un po' presuntuoso nel chiedere certe cifre, e con la Juve ragazzi, secondo me ha sbagliato, secondo me ha sbagliato, perché lui poi si è impuntato e voleva certe cifre, poi secondo me la verità sta sempre nel mezzo, perché comunque da Juve venendo in sui tanti fortuni, avendo puntato poi su Vlaovic, ha deciso di non puntare più su Paolo, però ragazzi, ripeto, secondo me questa decisione di Paolo fa capire come abbia fatto bene la Juve. Poi ripeto, per la Roma Paolo è un giocatore che può sicuramente fare la differenza, alzare il livello, e se non avrà troppi acciacchi muscolari, fisici, sicuramente è un acquisto importante per Roma, dà sicuramente entusiasmo, però ragazzi, un giocatore come lui, a parametro zero, che non solo piglia di nessuno, considerando che all'estero ci sono fior fior di squadre che buttano i soldi ogni anno per prendere i giocatori, anche non di quel tasso tecnico lì, fa pensare, onestamente mi fa pensare, mi fa pensare tanto anche, però, comunque sia, le ipotesi, ormai è rimasta a galla, era a Roma, e si parlava di un interessamento possibile del Napoli, io ragazzi, onestamente in questo momento il Napoli non la vedo una squadra che dà grandi sicurezze, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista di solidità societaria, non mi dà delle sicurezze, quindi secondo me Dipala ha scelto, ha scelto bene, poi, personalmente, un attico a Roma, è un attico a Roma, e quindi anche la location, sicuramente fa la sua parte, quindi ragazzi, grande presa della Roma, parametro zero, una grande presa, vedremo quanto effettivamente Dipala potrò dare suo supporto, ma i dubbi sono appunto tutti legati alla sua condizione fisica, vedremo, io gli auguro il meglio a Paolo, perché non è un giocatore che mi sta antipatico, chissà che, semplicemente non lo ritengo un top player, Paolo ha perso il treno per diventare un campione qualche stagione fa, non è riuscito a fare quel salto, comunque si arresta un buonissimo giocatore, e quindi gli auguro il meglio, sono curioso, ragazzi, io vi avevo già parlato bene della Roma, perché secondo me la Roma ha il centro capo più forte in Italia, insieme a quello dell'Inter, era subito sotto nella scorsa stagione, è una squadra interessante, se riescono a sistemare ancora un po' la panchina, può essere una squadra che secondo me può prendere il posto del Napoli nei prossimi anni, quindi sono molto curioso, poi tanto lavoro lo dovrà fare a José Mourinho, vedremo cosa verrà fuori, intanto complimenti a loro per essersi presi di bala a parametro zero, perché per Roma è sicuramente un giocatore importante, secondo me brava la Juve a non averle rinnovato il contratto. Poi ragazzi, io capisco tutto, può dispiacere, non dispiacere, perché comunque ci si affeziona ai giocatori, io mi sono affezionato a tanta delitte, qualcun altro, anche nei commenti, nei giorni di scorsi, mi diceva che era molto affezionato di bala, quindi lo capisco, però io penso che la Juve ha lavorato come azienda, in questo caso ha lavorato bene con Paolo. Poi dispiace che i rapporti si siano incrinati male, però secondo me la Juve alla fine ha preso la decisione giusta. Non era un giocatore che ti dava garanzie, non era un giocatore affidabile, di bala secondo me è stato rovinato da quel gol contro il Barcellona, che l'ha fatto paragonare a gente cui non è minimamente, lontanamente paragonabile, nemmeno su FIFA, figuriamoci, figuriamoci mai nella realtà. Buon ragazzi, ci tenevo a dirvi la mia, se ci dovessero essere ragionamenti su Bremer, o acquisti della Juve, sono qui a commentarli per voi. Iscrivetevi al canale, diffondete il verbo, ci vediamo molto molto presto, forza Juve, in bocca al lupo a Paolo, e siamo qua. Ciao ragazzi, ci vediamo presto. Grazie.